Cos'è il carcinoma a cellule squamose? Il carcinoma a cellule squamose è una forma estremamente comune di cancro della pelle che di solito è benigno, soprattutto se preso precocemente. In quasi il 97% dei casi, il cancro può essere esportato e il paziente guarirà completamente. In altri casi, questo tumore ha il potenziale per metastatizzare, diffondersi ad altre parti del corpo e creare seri problemi di salute. Questo carcinoma attacca l'epitelio, lo strato superiore della pelle. L'epitelio ha cellule speciali conosciute come cellule squamose che sono appiattite, e nella sezione trasversale, assomigliano a squame. Queste cellule svolgono una serie di funzioni importanti per il corpo, come la promozione dello scambio di gas. Oltre ad apparire sulla pelle, il carcinoma a cellule squamose può anche attaccare le cellule squamose in altre parti del corpo, come gli organi interni, la lingua e così via. Il primo segno di carcinoma a cellule squamose è di solito un cerotto arrossato e squamoso sulla pelle. A volte si svilupperà un odulo o un odulo. Man mano che la pece squamosa si diffonde, inizierà a formare lesioni e una crosta spessa. Se viene permesso di diffondersi, la crescita può nutrirsi nelle cellule circostanti, causando un'estesa perdita di tessuto. Se capita di essere maligno, può diffondersi agli organi interni e al resto del corpo. Il trattamento per il carcinoma a cellule squamose comporta l'escissione totale del carcinoma. Molti medici semplicemente tagliano il cancro, ma possono anche essere congelati o bruciati. La maggior parte dei medici preferisce assicurarsi che i margini siano puliti e che possano eseguire una biopsia per confermare che il paziente ha un carcinoma a cellule squamose e che il carcinoma è stato completamente rimosso. La biopsia testerà anche per determinare se il carcinoma era in situ, nel senso che avrebbe solo attaccato gli strati superficiali, o invasivo, con il potenziale di diffusione. Il più grande fattore di rischio per il carcinoma a cellule squamose, insieme ad altre condizioni della pelle come il carcinoma a cellule basali e il melanoma, è la pelle palida e la frequente esposizione al sole. L'esposizione a determinati prodotti chimici può anche aumentare il rischio. Se hai la pelle chiara, dovresti proteggerti dai cancre della pelle applicando una protezione solare adeguate proteggendoti dal sole con cappelli a tesa larga e indumenti ampi e larghi. Ricorda che anche quando il tempo è nuvoloso, le radiazioni UV dannose possono ancora penetrare.